trasmetti gioco giusto poi vai su trasmetti gioco vabbè condivisione della live tu la sai adesso non entro ovviamente se no partirebbe la live di fifa ma non voglio qui cambi il titolo della tua live che fai poi ti dà quando una volta che stai in live ti dà guarda la faccio a volo poi la levo entro solo per fartelo vedere a te allora entri in live impostazione trasmissione impostazione avanzata messaggio spettatori cambi il messaggio dei spettatori giusto e automaticamente cambi il titolo qui della live sotto e il colore e ci sono i vari colori che può mettere tu ok questa è la spiegazione per matt gamer per tutti quelli che non sanno usare bene la playstation se invece volete farvi sentire nei video senza vedervi in live fate video da qua fate registrazione video salva clip con quadrato una volta registrato finito il video rispingete questo rispingete quadrato per finire il video e parlate con un microfono attaccato alle cuffie delle cuffiette del telefono basta ne avanzano ok grazie a tutti se non ti è chiaro chiedimi poi matt di aspetto ok grazie a tutti un saluto da criminal 7 gamer ciao